Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo alla tragedia che si è consumata questa mattina in un'abitazione di via Novara nel quartiere Baracchia Gela. Una donna è morta bruciata viva dalle fiamme che hanno devastato l'appartamento in cui viveva. Non chiare le cause dell'incendio, la vittima aveva 39 anni, sposata e madre di una bambina. Sul posto le forze dell'ordine, alcuni vicini di casa ed anche un poliziotto hanno tentato di salvare la 39enne, ma le fiamme erano altissime. Vediamo. Aveva 39 anni, sposata e mamma di una bambina. Si chiamava Concetta Legname, vittima di uno spaventoso e tragico incendio, le cui cause sono ancora da accertare, che questa mattina, poco prima delle 9, ha devastato l'abitazione in cui risiedeva in via Novara nel quartiere Baracche a Gela. La donna è rimasta intrappolata dentro le quattro mura di casa sua al quarto piano, mentre il fuoco distruggeva tutto. Ha chiesto aiuto, i vicini si sono adoperati con ogni mezzo, chi ha chiamato i pompieri, chi la polizia, chi i carabinieri. Alcuni hanno tentato di entrare in casa per salvarla, tra loro anche un agente di polizia, ma non c'è stato nulla da fare. Concetta Legname è rimasta bruciata viva. L'intero edificio è stato sgomberato, evacuate le famiglie che ci abitano. Testimoni oculari raccontano che la scala utilizzata dai pompieri per accedere all'appartamento divorato dalle fiamme si sia inceppata mentre la donna chiedeva disperatamente aiuto. Concetta Legname era da sola a casa, il marito era andato via da poco. Sul posto il funzionario di polizia, Laura Romano. L'intervento è stato tempestivo, purché vada precisato le fiamme erano già alte all'arrivo dei vigili del fuoco e al nostro arrivo che è stato contemporaneo, contestuale. Gli operatori della volante sono intervenuti sin da subito accedendo all'abitazione sino al quarto piano salvo poi constatare che le fiamme erano veramente altissime e quindi risultava indispensabile un intervento dei vigili del fuoco. Di altro adesso non sappiamo, non mi sento di rilasciare dichiarazioni circa le cause dell'incendio o la dinamica che ha determinato eventuali danni o vittime perché a quanto pare al momento c'è una vittima al quarto piano. Il dato tragico è proprio questo, che una donna è rimasta alza viva. Sì. Adesso come si interverrà per mettere in... Adesso si interverrà con lo spegnimento totale delle fiamme, la messa in sicurezza dell'edificio, abbiamo fatto evacuare tutto l'edificio, abbiamo fatto evacuare la zona perché come vedete c'è un crollo al momento di calcinacci e pezzi di legno e poi interverremo per appurare le cause dell'incendio e quindi della morte della signora. Anche la gente di polizia è rimasta ferita. Essendo le fiamme altissime un operatore delle volanti stava per essere attinto alle fiamme, per fortuna ha avuto i riflessi pronti, ha indietreggiato prima di essere attinto. Non si è capito però per quale motivo sono esplose le fiamme? No, no. Rabbia e incredulità per quanto accaduto tra i familiari della 39enne. I congiunti accusano, i soccorsi sono arrivati in ritardo e la scala utilizzata dai pompieri per accedere all'appartamento divorato dalle fiamme si è inceppata mentre la donna chiedeva dispertamente aiuto. Saranno le indagini della polizia a verificare quanto accaduto. Ma lei come l'ha saputo? Quello che sta accadendo purtroppo. Mio fratello mi ha telefonato, non c'ero io a casa. Non c'era io. Non c'era io a casa, non voglio parlare. E lei si è accorta delle fiamme? Mi chiamarono a mia, io entro a il terzo piano, il piano su questa dritta. E chiama e si dice, non è venire in Catania, ma la cosa l'està dice che è caduto con Scarparo. Come si può così morire di tanto aiuto? Come si può? Ma voi siete anche intervenuti? Voi? Io sono intervenuto dopo perché già i pompieri erano là dentro. Ma come posso fare io ad entrare là dentro con il fuoco tutto che brucia ormai tutto? La signora è morta bruciata, è mia zia. Era da sola a casa? Da sola si è trovato in quel momento. Non ci siamo trovati noi che ci siamo andati a lavorare. È indollerabile quello che è successo oggi. È indollerabile. Questo, questo, questi è quelli che siamo noi. Perché noi soffriamo e noi paghiamo, paghiamo lo Stato. E noi moriamo dalla fame di tutto. Che qua non lo capiamo. Che qua non mi chiedono a lavorare la mattina, i cristiani sono andato a lavorare e non mi morono. Chi è stato? Grazie Stato. Grazie. Le ho chiamate alle 8 e 49. Ma vengono, sai, dopo dieci o quattro d'ora. E cioè, è vergognoso. E poi la scala, se c'è un po' scala, se c'è un po' bomba. E a verrà la morro bruciata, ha messo così. È vergognoso ancora se cosa succeda ora. Cioè, verrà la messa così. E ha tentato di buttarsi e non ce la faceva. Basta! 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 Soffriva di niente. Stava un po' male. Giustamente è successo che è preso fuoco la casa e non ha potuto chiedere aiuto. Come si può che non funzioni la scala? Ora, questi signori che lavorano, dei bombieri, giustamente dice, se non funziona la scala, come facciamo noi a prenderla subito? È morta gridando aiuto, aiuto! Cambiamo argomento. I componenti della Commissione Comunale Ambiente e Sanità di Gela sollevano dubbi su quanto dichiarato dal sindaco Domenico Messinese e dal suo vice Simone Siciliano in merito a quanto accaduto sabato scorso a Scavone con i rifiuti sparsi sulla strada. Quello che accade a Scavone, dice la Commissione, non è frutto dell'inciviltà degli stessi abitanti del quartiere, ma dei cittadini provenienti anche da altre zone che si sentono autorizzati a conferire rifiuti indifferenziati in un sito che di fatto è abbandonato dalle istituzioni, così come tanti altri quartieri di veriferia e per i quali la Commissione aveva già fatto rilevare all'amministrazione la presenza di discariche abusive oltre a sostenere la necessità di derattizzare, disinfestare e debattizzare, ma il sindaco non ha mai risposto alle richieste. La Commissione inoltre alza ulteriormente il tiro, le rimostranze del quartiere Scavone hanno provocato molto scalpore e digrazioni forti da parte del sindaco e del suo vice. Ci stupiamo come nulla gli stessi avviano detto in merito ai roghi che ogni giorno hanno accompagnato la cosiddetta emergenza di rifiuti, eppure il sindaco, avendo la più alta delle responsabilità nei confronti dei cittadini, cioè quella della salute pubblica, avrebbe dovuto dichiarare il suo dissenso e magari emettere una ordinanza. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Gela ha chiesto formalmente al segretario generale del Comune di verificare la legittimità dell'ordinanza con cui il sindaco ha disposto la liquidazione alla Tecra di 650 mila euro per i servizi aggiuntivi di rimozione dei rifiuti del primo trimestre 2016. Questo perché non esiste un atto da cui si vince che sono stati ordinati quei servizi e perché, dopo l'accesso agli atti da parte dei consiglieri grillini, il settore ambiente ha fornito copie delle fatture presentate da Tecra, ma non l'atto con cui vengono richiesti ed autorizzati quei servizi. Proseguono a Gela i lavori degli ultimi appalti esperiti al Comune. L'assessore comunale ai lavori pubblici, Flavio Di Francesco, ha annunciato la celebrazione di nuove gare, esprimendo compiacimento per il proseguo degli interventi. Il riferimento è soprattutto ai cantieri di Gela Est e Gela Ovest, che prevedono il rifacimento della pavimentazione stradale agli ingressi della città. Al momento i lavori sul versante occidentale stanno interessando contemporaneamente tre siti, un attratto di Venezia, via Genova a Caposoprano e la rotatoria all'ingresso del quartiere di Macchitella. In quest'ultimo caso la ditta giudicataria dell'appalto sta operando, assieme a Caltacqua, allo scopo di prevenire problemi di allagamento in concomitanza con le prossime piogge. Anche i lavori sollecitati dal comune a Ferrovie dello Stato stanno proseguendo. In questi giorni le opere di muratura e messe in sicurezza stanno interessando le strutture della linea di via Butera in centro urbano. Stiamo proseguendo secondo il ruolino di marcia, insomma, la seconda programmazione. In questo momento abbiamo il cantiere più importante che è qui in via Venezia, un'altera importantissima e fondamentale. Diciamo che forse è l'altera più importante della città perché non solo per il passaggio di mezzi pesanti, ma anche perché è un centro commerciale all'aperto a tutti gli effetti. Per cui stiamo operando, insomma, anche creando un po' di disagio, però è tutto sotto controllo. Gli altri cantieri siamo a gente in via Genova, a Caposoprano, dove alcune di queste strade di via Genova e Milano erano in uno stato completo dissesto, quindi andremo anche lì a riparare il mando stradale. E poi un altro lavoro molto molto importante è quello della rotatoria in ingresso di Machidella, quella interna, e dove lì stiamo operando anche insieme con Faltacqua per evitare che quanto ci sono le piogge, insomma, si possano creare dei problemi di allagamento. Quello è un momento molto importante per evitare che anche la minima pioggia possa creare dei problemi. È prevista fino a domani verso l'ospedale Vittorio Emanuele Di Gela la presenza di un camper all'interno del quale sarà effettuata gratuitamente la mammografia a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Ci si potrà presentare anche senza specifico invito, l'esame infatti è garantito ugualmente. Contemporaneamente sarà consegnato agli utenti il kit per eseguire lo screening al colon. L'iniziativa è dell'ASP2 di Calzani 7 che promuove l'importanza della prevenzione per tutte quelle patologie dalle quali si può guarire con una tempestiva diagnosi corretta ad accogliere le donne che si sottoporranno ai controlli. Ci saranno i volontari della FARC che affiancheranno gli operatori dell'ASP. Le famiglie gelesi degli alunni delle scuole statali e paritarie possono presentare stanza per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2015-2016. Lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali Licia Abela. La domanda di partecipazione con i suoi allegati dovrà essere presentata, pena esclusione, entro il prossimo 30 settembre ed esclusivamente nella scuola frequentata dallo studente che provvederà a trasmetterla al comune di residenza per gli alunni delle scuole primarie e secondarie inferiori statali e paritarie, ovvero ai liberi consorsi comunali per gli alunni delle scuole secondarie, superiori statali e paritarie. Al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, ma anche lo stesso studente, se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a 10.632,94 euro. I moduli di domanda vanno ritirati nella scuola frequentata dallo studente o possono essere scaricati dal sito internet del comune di Gela. Sembra essere rientrato l'allarme meningite in città, due i casi che si sono registrati nel giro di un mese, l'ultimo la settimana scorsa. Un caso di meningite batterica ha riscontrato un giovane 28enne diagnosticato tempestivamente dai medici del Sant'Elia. Le assicurazioni arrivano dal primario facente funzione del reparto di malattie infettive Alfonso Averna. Situazione di allarme assolutissimamente non c'è. Sì, abbiamo avuto due casi di meningite, uno batterica e uno di tipo virale. Però i pazienti stanno tutti e due bene fortunatamente e posso dire che anche negli anni passati i casi di meningite ci sono stati. I casi di meningite che possono dare maggiormente problemi sono quelli da meningococco. E fortunatamente c'è la vaccinazione per il meningococco, poi c'è quello da streptococco pneumone, da emofilus influenzae. Anche per questi casi abbiamo la vaccinazione. Quindi non allarmarsi nella maniera più assoluta ed eventualmente se si tratta di meningite c'è la terapia, sia per la meningite batterica sia anche per la meningite virale. Un'incidenza, quella della meningite, è dovuta anche alla riduzione delle coperture vaccinali che stanno esponendo la popolazione a un maggior rischio. È notizia freschissima che la regione Sicilia ha aumentato la fascia di età dell'offerta gratuita del vaccino del tetravalente. Prima era dai 12 ai 27 anni, ora ha aumentato la fascia da 12 a 30 anni. Quindi questa è una vaccinazione gratuita che copre il gruppo A, B, C, W e Y, quindi quasi tutti i tipi di meningite, quindi adolescente e adulto. Poi dal 2015 la regione Sicilia prevede nel calendario vaccinale il vaccino con il meningococco B. Si comincia al secondo mese di vita perché praticamente quelle maggiormente colpite dalla meningite B sono i bambini piccoli sino ai due anni. Quindi vaccinatevi, il vaccino è gratuito, lo offriamo gratuitamente appena le mamme vengono a fare la prima dose di vaccino esavalente e poi ritornano dopo circa un mese per poter fare la prima dose di vaccino antipenico-cocco B. Partono da domenica i festeggiamenti in onore di San Sebastiano a Gela alle 19 nella chiesa di Settefarine. Sono previste la Santa Messa, la chiusura delle creste e l'apertura dei festeggiamenti. Da mercoledì 3 agosto comincerà il triduo alle 17 a 30, arrivo dall'effigie di San Sebastiano nelle quartiere Margi alle 18, recita del Santo Rosario alle 18 a 30, vespro e alle 19 catechesi e messa. L'effigie di San Sebastiano sarà portata nel quartiere Albani Roccella e venerdì 5 nel quartiere Poggio Blasco. Sabato 6 agosto alle 18, recita del Rosario alle 18 e 30, vespro e alle 19 solenne celebrazione eucaristica con la partecipazione delle autorità civili e militari. È prevista la processione del simulacro. In Piazza Santa Faustina si terrà inoltre la benedizione con la reliquia. Il Movimento Giovanile San Francesco di Gela, a conclusione dell'attività estiva del Grest, ha organizzato per le serate di domani e di domenica due spettacoli conclusivi. Domani alle 21 in Piazza San Francesco si terrà lo spettacolo conclusivo della categoria Animation Group. 70 ragazzi di età compresa tra i 13 e i 15 anni divisi in due squadre che ogni giovedì durante l'attività estiva del Grest si sono sfidati in discipline come canto e danza. Saranno domani giudicati da una giuria d'eccezione composta da una sezione tecnica e una sezione stampa affiancate da tutti i giurati che ogni giovedì hanno valutato le esibizioni dei ragazzi. Ospite d'eccezione e presidente di giuria sarà Christian Imparato, vincitore della prima edizione di Io Canto, il noto talent show di Canale 5. Lo scuola della sfida, oltre a quello di decretare la squadra vincitrice, è quello di far emergere le capacità e le attitudini dei ragazzi. Durante la serata di domani verranno premiate le otto squadre che hanno partecipato al torneo di calcetto organizzato sempre nel contesto delle attività del Grest. Domenica 31 luglio alle 19 sarà celebrata l'Eucarestia in Piazza San Francesco e a seguire intorno alle 21 inizierà lo spettacolo dei Grestini. La serata si concluderà con la musica che il DJ Graziano Lacognata selezionerà per tutti i ragazzi, i bambini e i genitori sempre in Piazza San Francesco. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. E eccoci la seconda parte del telegiornale, fine settimana ricco di appuntamenti, quello appena iniziato nell'ambito del cartellone estate a Gela, promosso dall'assessorato agli eventi del comune retto da Eugenio Catania. Questa sera alle 21 in corso Vittorio Emanuele nei pressi della suggestiva Chiesa Madre sarà la volta dell'associazione Sound Down. Mentre domani sera sabato 30 luglio allo stesso orario, ma nella Villa Garibaldi, Demetra, il gruppo Gira Vote Furria terrà un concerto o tributo a Fabrizio De Andrè. Nella mattinata di domani alle 10 in via Cadorna è prevista l'iniziativa artistica 4 amici al bar, curata da Holiday Web, che continuerà domenica 31 luglio dallo stesso orario e nello stesso posto all'angolo con Corso Vittorio Emanuele. In serata alle 21 e 15 l'ex convento delle Benedettine ospiterà un concerto lirico promosso dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. E proseguono a Gela i venerdì letterari promossi dal Comune, dalla libreria Mondadori e dal Teatro Eschilo. Oggi alle 20 e 30 ospite dell'Eschilo Lab sarà l'esperto di dipendenze patologiche Antonio Nettuno, che parlerà di gioco d'azzardo dialogando con l'assessore comunale alla cultura Francesco Salinitro. Ci sono nuovi servizi e nuove attrazioni sulla spiaggia di Gela. Dopo le docce pubbliche e bagnanti adesso potranno soffrire anche delle passerelle in PVC. Il materiale è stato scelto per evitare, come è accaduto negli altri anni, che il legno utilizzato venisse vandalizzato per il falo di ferragosto. I nuovi camminamenti, che poi verranno ritirati alla fine della stagione estiva, per essere riutilizzati nel corso della successiva, permetteranno un accesso alla battigia soprattutto ai diversabili e ai genitori che portano a mare i bimbi in passeggino. Da ieri poi, sul lungomare Federico II di Svevia, grazie alla donazione dell'associazione SMAF, è stata collocata una cornice in legno a misura umana che permetterà alle persone di fotografarsi con un ritaglio del paesaggio, lanciando l'astag Gela in una foto. La struttura, adornata da piante con la dicitura Saluti da Gela, è collocata ad ovest, dove nel tardo pomeriggio si potranno immortalare personalizzati anche i suggestivi tramonti gialesi. Una piccola cosa, insieme alle altre piccole cose che stiamo facendo, ma sembra nell'ottica di dare un qualcosa in più alla città. Il fatto di una cornice che possa far inquadrare una porzione di mare, di porto, eccetera, è una cosa carina, niente di particolare. Io semmai ringrazio quei cittadini che hanno voluto donare questo oggetto interessante, a mio parere, che sono l'associazione SMAF di ragazzi che fanno delle cose splendide, hanno fatto anche per la prima volta il presente vivente a Gela durante lo scorso Natale, e poi la Gela ha portato i vasi e completterà con le piante. Ma c'è solo il desiderio di offrire qualcosa di diverso in più ai nostri cittadini che fanno la passeggiata su un problema. Se ogni momento in cui si cominciano a fare foto all'interno di questa cornice, questo è sicuramente un modo per diffondere ciò che di bello noi abbiamo. I volontari della FIDAS ad Asi di Gela, il Presidente e alcuni componenti della dirigenza, si regaranno domani a Reggio Calabria per prendere parte alla decima edizione della traversata della solidarietà organizzata dalla FIDAS nazionale in collaborazione con la FIDAS Reggio Calabria e la FIDAS Calabria. Domenica alle 18, numerosi donatori e volontari sotto lo sguardo vigile e attento degli atleti delle fiamme oro della polizia affronteranno le acque dello stretto partendo dalla sponda siciliana di Punta Faro per raggiungere, avvicendandosi in una staffetta, la riva di Cannitello a Villa San Giovanni. Tra coloro che compiranno l'impresa anche Rosario Savasta che già lo scorso anno ha rappresentato in mare l'associazione gelese presiduta da Enzo Emanuello. Scopo dell'iniziativa è certamente quello di sensibilizzare il maggior numero di persone nei confronti del valore della donazione di sangue, gesto anonimo, volontario e responsabile attraverso lo sport e quindi l'assunzione di corretti stili di vita. Nell'ambito del percorso formativo Anche Tu Puoi Salvare Una Vita l'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia, coordinata da Orazio Coccomini organizza un corso di formazione come esecutore di BLSD. L'iniziativa si svolgerà domani con inizio alle 9 presso l'aula formazione della sede operativa di Via Falcone incontrata Brucazzi a Gela. E adesso parliamo di sport, parliamo del Gela Calcio che continua il ritiro precampionato a Zafferana e Tnea. Il nostro obiettivo, dice il tecnico Totò Bruculeri è quello di regalare soddisfazioni a un'intera città. Sentiamo. Totò Bruculeri comincia la nostra stagione per il Gela è chiaro che non c'è due senza tre perché avete vinto due campionati consecutivi con la impanchina e adesso ci aspettiamo che si vinca anche il terzo oppure ci accontentiamo di una salvezza tranquilla. Però conoscendo il Presidente Duccio è chiaro che il Gela non vuole fare la comparsa in questo campionato difficile. Intanto i campionati vinti vanno partiti del passato. Noi siamo qua nel presente con grande protezione per il futuro. Quello che si è fatto precedentemente rimane nei ricordi degli annali della gente, dei tifosi, dei giornalisti. Però lei non deve dimenticare che quando si finisce un campionato e siamo stati vittoriosi c'è stato un grande applauso. Che se n'è andato. Ora deve di nuovo ritornare. Però è pur vero che Gela ha fame di vittorie, ha fame di successi. È chiaro, sottolinevamo, che il Presidente più volte ha detto a me non piace che il Gela faccia la comparsa ma ambisca qualcosa di importante. Sì, ma più si sale di categoria più diventa più importante sotto il punto di vista tecnico-tattico sull'organizzazione di una squadra. Ci sono tante le motivazioni, gli interessi di lavoro. Ci sono mille cose, insomma. Però è chiaro che noi veniamo da due campionati, siamo stati protagonisti per due anni per l'ambizione del Presidente, che sia giusto. Penso che il nostro primo tifoso è una persona molto ambiziosa, è una persona con la quale ci tiene, insomma. Noi siamo qua anche per lui. Se non ci fosse il Presidente, insomma, non sarebbe facile fare il calcio a Gela. E per la città? Soprattutto, però. La città è una città importante, una città che ha grandi motivazioni. Forse noi siamo stati bravi, diciamo, come disciplina sportiva, riuscire a dare un sorriso, una gioia, una felicità, anche, diciamo, anche passeggera. Però siamo stati noi, insomma, a dare qualcosa di importante. In una città che in questo momento, oltre al cielo che creggio, anche, insomma, sotto l'aspetto, tutto l'aspetto, diciamo, economico, è stato un momento molto difficile. Se vogliamo, voi ogni domenica regalate un sorriso, sostanzialmente. Sì, io penso che è giusto che anche i ragazzi riescono a, diciamo così, a catechizzare e nello stesso tempo a metabolizzare quello che cosa vive una città nel quotidiano, quello che cosa c'è nel giornaliero, no? Noi viviamo in una situazione diversa rispetto alle altre città. E questo lo devi sentire sulla tua pelle, lo devi sentire nel quotidiano, devi vedere il movimento di una città. Però questa città merita, questa città merita grande soddisfazione, merita di, sotto certi punti di vista, anche sotto l'aspetto sportivo di alzare la testa, come si suol dire, no? Io penso che ci sono tutti i presupposti per farci alzare la testa. Prenderà il via domani sulla spiaggia di Gela presso la Beach Arena del Lido Bicul Beach il quinto torneo misto 4x4 di Beach Volley. La formula prevede la partecipazione di squadre composte da quattro giocatori con l'obbligo di avere sempre in campo una ragazza. Al torneo si sono iscritte 12 squadre che saranno suddivise in tre gironi e si giocheranno la missione ai quarti di finale. Previsti i premi per le prime tre squadre in classificate per il miglior giocatore la migliore giocatrice e tanti premi e gadget a sorpresa offerti da alcuni sponsor. Le finali si giocheranno domenica 31 luglio. L'organizzazione è curata da Oscar Camilleri Luigi Turco e Giuliana Pane. Il volley Macchitella si prepara a scendere in sabbia con un torneo di Beach Volley 4x4 in notturna. 12 le squadre coinvolte 48 le atlete del panorama gelese che si sfideranno per contendersi il primo posto di un torneo che vedrà la partecipazione femminile assestarsi al 50% delle presenze. L'iniziativa si terrà nei giorni 1, 2 e 3 agosto presso il Lido Be Cool Beach. E proseguono gli appuntamenti con teatro sotto le stelle all'arena all'aperto dell'antitodo di Macchitella a Gela. Oggi alle 21.30 la compagnia teatrale La Svolta porterà in scena il marito di mio figlio. Il costo del biglietto è di 5 euro a coppia. Domani alle 21.30 invece salirà sul palco Giobbe Covatta. In questo caso il biglietto ha un costo di 10 euro. Lo ricordiamo anche una volta ci sono numerosi posti disponibili. Abbiamo concluso anche per oggi. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie.